Siamo nella Valle dei Templi, è un crescendo, noi siamo entrati dalla porta quinta ed è un ingresso che vi consigliamo perché dopo il giardino della Colimbetra diciamo che il percorso proprio cresce nella meraviglia e si arriva a questo, alla mia spalla, che è il Tempio della Concordia, la mia spalla insieme ai turisti che si fanno i selfie Grazie a tutti!